Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Con calma, questo è un caccio in danno, con calma risponde. E allora poi ci siamo letti, vabbè il costume, però se uno va al mare e può andarci un po' meglio, con qualche chiletto di meno da smaltire, e allora rifacciamo questa dimensione allargandola al dottor Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Diciamolo in nome, ma Campanaro, va bene? Dottor Campanaro, nutrizionista. È così che mi chiamo, ed è quello che faccio. Nutrizionista, che per la fame ha perso la vista. No, direi di no, nel senso che comunque il nutrizionista non è detto proprio che debba affamare le persone. Io vado sempre per la tangente, le cose che mi vengono in me, questa è il mio premio. Il bello è quello. Il bello che mi viene in mente è che è fuori tema, però siccome me ne hai fatto pensare tu quando hai fatto quella domanda. Allora, andare al bagno la mattina, uno che va sempre alla stessa ora, vuol dire che sta meglio di un altro che ci va quando gli capita, o di un indice di qualcosa? Ma allora, come per tante cose... Io vi conosco a voi, tu sei sempre preciso, tu sei capace che sei parte di quello che va sempre alla mattina. Sì, diciamo... Vabbè, poi ditelo allora. Diciamo una cosa importante, che per quanto riguarda la funzionalità intestinale, la cosa molto importante è innanzitutto percepire quelli che sono gli stimoli che arrivano dal corpo. Molte persone purtroppo tendono a soffrire di stipsi o di stitichezza che dir si voglia, perché? Perché nel momento in cui hanno lo stimolo, ho c'ho da fare, devo accompagnare, e quindi ovviamente l'intestino si disabitua a percepire questi stimoli. Per cui, che cosa succede? Che se tu invece in qualche maniera ti organizzi in maniera tale che la mattina fai colazione, bevi dei liquidi, cominci ad attivare la motilità intestinale, per esempio, quando la mattina si fa colazione solamente bevendo solo un caffè, non si mettono abbastanza liquidi, a parte il fatto che non si mette energia per far partire il corpo, non si mettono abbastanza liquidi per poter far partire l'intestino che sta a digiuno sia di liquidi che di solidi da una notte. E' una notte accumulata. Sì, però ovviamente non c'è qualcosa che già faccia partire mettendo dei liquidi, mettendo del mangiare, lo stomaco, il segnale dallo stomaco, e quindi questo attiva l'intestino. Tu invece fai una colazione normale, la famosa, la tua colazione, con le mandorle, con le noci, con il pane, con il miele, ancora questo. No, stamattina il pane e olio per esempio, perché comincia a essere anche... Un cappuccino, un po' fratele mite per... No, ma non credo di essere... Con l'azione del dottor Campanaro. Con l'azione del dottor Campanaro è praticamente il tè, perché il latte mi tende a dare un pochettino fastidio, qualche volta latte del lattosato, però fondamentalmente sono intolleranti al lattosio. Dipende, dipende, perché anche qui c'è da dire che chi per esempio è un po' intollerante al lattosio come me, il latte può avere, come dire, un doppio effetto. Da un lato potrebbe praticamente mandare subito al bagno, perché comunque va a stimolare molto subito la motinità intestinale. O ce l'ho chiesto, ma gioventù. Dall'altro, dall'altro praticamente, si può avere invece un effetto contrario. Cioè l'intestino si contrae, quindi praticamente può creare addirittura stipsi, può creare problemi in questo senso. Però tu opti per il tè. Un tè, comunque un liquido, io lo dico sempre anche alle persone, l'importante è che sia tè, che sia latte, che sia orzo, che sia succo. Uno succo di frutti. L'importante è che ci sia un liquido, perché così... E l'orzo, l'orzo va benissimo. Va bene, perfetto, perché l'orzo praticamente... E tu però non lo ammolli. No, allora, attenzione, attenzione, io generalmente ci sono degli alimenti che puoi ammollare, degli alimenti che non puoi ammollare. Stamattina, come magari per esempio altre mattine, una bella fetta di pane con l'olio, pane che fa mia moglie, la ringrazio, perché lo facciamo praticamente con il lievito madre e quindi è un pane molto, molto genuino, molto digeribile, molto fresco. Oppure per chi magari ha problemi con il pane, magari consiglio sempre di tostarlo perché così i lieviti tendono ad, come dire, a nientarsi o comunque non dare problemi più di tanto per il cucchiore. C'è un problema, purtroppo abbiamo già il pane. No, perché il pane potrebbe capitare anche... Ok, ci metti l'olio, è chiaro che non l'ammolli. Non lo puoi ammollare. Però voglio dire, se c'è un bel biscotto fatto in casa, se capita praticamente un ciambellone, un dolce e così via, lo ammolli. In genere tu il biscotto lo ammolli? Sì, anche con tutti i doppi sensi perché conoscendoci ormai da tempo, credo che praticamente... No, che c'è, perché il pane... Prevengo, prevengo... Il pane con l'olio è tra l'altro. No, 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 va bene, però il biscotto si inzuppa bene, si inzuppa bene e quindi ovviamente... E qua il pomeriggio, posso dire che va il pomeriggio? Dopo il pasto principale devo essere stimolato di più io. Dicevo prima che indipendentemente dall'orario, chi ci va il mattino, chi ci va il pomeriggio, chi si alza presto e così via, l'importante è coltivare lo stimolo nel momento in cui praticamente, che è una cosa veramente molto molto efficace, cioè nel momento in cui si ha lo stimolo, dedicarsi quei dieci minuti, quel quarto d'ora, quello che sia, per andare al bagno. Perché ovviamente questo risolverà tutta una serie di problemi, di fastidi e così via. Molte volte mi chiamano le persone che mi dicono, sa, vado al bagno una volta alla settimana. Mamma mia! E a parte il fatto il gonfiore che ci può stare, la costituzione, il fastidio, ma teniamo presente, ma a parte il fatto l'andare o meno, ma teniamo presente che gli alimenti all'interno dell'intestino tendono ad andare in putrefazione e quindi provocano dei gas e delle sostanze tossiche che vanno a loro volta ad inquinare il corpo. Quindi voglio dire, non dico tutti i giorni, se lanciano i gas e inguinano, che stanno? Il famoso effetto Serra, che sembra sia dovuto anche alla produzione di gas. Poi ci torniamo al tema, i fagioli perché sono famosi? I fagioli sono famosi perché contengono delle sostanze, ricordiamoci innanzitutto che i fagioli sono dei legumi e i legumi contengono anche delle proteine. I fagioli sono un mix di proteine e di carboidrati, per cui praticamente è un alimento che già di per sé, nella digestione tende a creare abbastanza fermentazioni e anche perché ci sono delle proteine, ci sono delle proteine, queste possono creare nella digestione dei gas e quindi ovviamente... Non la carne congiene proteine, ma non determina, fa il gas. No, no, anche la carne, se mangiata in una certa maniera, può creare un disturbo... Però i fagioli sono famosi? I fagioli sono famosi perché tra l'altro contengono anche la fasciolamina e tante altre cose, però fanno anche dimagrire, per cui voglio dire, mangiare i fagioli e mangiare praticamente... No, quello è il pomodoro, mangiare i fagioli fondamentalmente... Va bene, voi lo consigliate, Reminestro, eh? Assolutamente, sì, assolutamente, sì, perché comunque... Molte persone mangiano delle zuppe di legumi e non ci mangiano mai i carboidrati, comunque tipo la pasta o il pane. Invece la combinazione migliore per avere praticamente meno fastidio è... Conosci i tubetti? Come no? Va bene i tubetti? Ridurre... Va bene, ma va bene come i tagliolini, le saglie, eccetera, eccetera. E lo so, sono domande i tubetti che la volta... Vabbè, insomma, ecco, bisogna andare... Quella con una settimana... Combinare, allora, combinare, fare non un piatto di fagioli pienissimo, per cui magari saranno 300 grammi di fagioli che comunque nella digestione potrebbero dare questi problemi particolari, ma combinare una pasta e legumi, oppure praticamente fare dei legumi con i crostini di pane in maniera tale che si riduce la quantità di legumi che può dare praticamente fastidio all'intestino nella digestione e metto una quota di carboidrati e poi un'altra tecnica importante per evitare, o comunque per ridurre notevolmente il fastidio alla produzione di gas è mangiare un contorno crudo dopo. Cioè? Insalata e tutto il resto. A tenua, perché praticamente va ad assorbire meglio, praticamente, queste cose. E lo tagliamo di contro, ragione? Per dire, ma ne prendiamo normalmente, però. Ma sono poi i consigli... Perché voi ci avete un po', no? Diritti, 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 diritti. Sono consigli tecnici che vengono... Tu si dici quando vai, pure? Io sono mattutina. E l'altra? Sì, sì. Ebbè, voi siete fortunati. No, no, io proprio come mi alzo? Colazione... No, non devo fare colazione, come mi alzo? Colazione della psicoterapeuta. Allora, io solitamente prendo l'orzo con un po' di latte e poi ci prendo i cereali o qualche fetta biscottata con la marmellata oppure biscotti di camut. Questo è un po'... A molle? Sì, cioè faccio una colazione abbastanza importante perché così ho un'autonomia anche... Siccome la faccio molto presto, la mattina faccio alle sette. e quindi ho bisogno... Va bene, soprattutto se poi deve avere... Questa è musica per le mie orecchie. Come diceva, questa autonomia nell'arco della mattinata... Che è, perché mi guardi? Bisogna praticamente che ci sia questa colazione e soprattutto che sia, come dire, abbastanza corroborante per riuscire a contare tutta la mattinata. E' un'importante che si può andare tutti i giorni e meglio, possiamo dire. Comunque, io volevo aggiungere forse una cosa, cioè che l'intestino è anche innervato col sistema nervoso e di conseguenza le persone che, ad esempio, soffrono d'ansia hanno difficoltà nell'evacuazione. Quindi, chi soffre d'ansia o tende ad avere una evacuazione continua oppure la ritenzione di cui parlava il dottore. Ma è vero che se si paurisci, è vero, stimo, non succede? Beh, sì, no. Oppure una paura, i ragazzi... Il sistema nervoso... Allora, noi abbiamo fondamentalmente due sistemi nervosi, diciamo così. Il sistema nervoso centrale, che è la centralina, diciamo, elettronica che governa tutto, comandabile. Nel senso che io decido di fare una cosa, parte un comando dal cervello, il mio braccio si muove, la mia mano prende la cosa che deve prendere e compio l'atto. E poi c'è un sistema nervoso autonomo che governa quello che noi non possiamo... Vegetativo. O vegetativo, che governa quello che non possiamo comandare. Come la respirazione, cioè, la respirazione possiamo anche... Quando serve... Mi è capitato una volta, sì. Come me, una ragazza, no? No, purtroppo, no, non con una ragazza, ma... Ma tu, in quel momento, quando devi salvare, non devi stare a pensare. No, no, lì ti cala praticamente una specie... A cataratta. No, a cataratta. Vai praticamente con dei meccanismi, come dire, automatici. Ma hai salvato, comunque l'hai salvato. Beh, sì, nel senso che comunque era... Poi, questo è importante, salvare una vita. Certo. Però, talvolta... Tu vuoi pure capacchi devi salvare. Beh, no, assolutamente no. Cioè, in quel momento... Quindi abbiamo detto che è meglio andare tutti i giorni, andare regolarmente, perché... E poi se no si hanno i confiori. E quindi stavamo dicendo fondamentalmente che il sistema nervoso autonomo governa in maniera autonoma alcune cose. La frequenza cardiaca, il battito, la respirazione e anche la motilità intestinale. Per cui, sia, diciamo, nell'eccesso in negativo, cioè il fatto praticamente che l'intestino si possa serrare perché le tensioni e le ansie possono in qualche maniera, come dire... Costipare. Costipare il verbo. Ridurre, ridurre la motilità intestinale, ridurre la peristansi. Oppure, vai. Oppure il contrario, la classica vecchia colite, che quando c'hai le tensioni e si va. Vai, vai, vai. D'altra parte, se ci ricordiamo, ricollegandoci un attimo a quello che si diceva prima, no, quando tu c'hai la paura, uno spavento improvviso, si dice anche che te la fai... Addosso, è vero. Addosso. Perché? Perché in quel momento si ha uno spasmo fortissimo e poi un rilascio, e poi un rilascio da parte praticamente del sistema nervoso autonomo che agisce sull'intestino. La famosa amigdala di cui abbiamo parlato. E si cede, e si cede praticamente. Questa era un'anteprima, un fuoritema. Un fuoritema. Parliamo del ventre piatto. No, ma perché la gente, insomma, non vorrebbe parlare di queste cose, non ne parla perché si vergogna, noi invece lo facciamo normalmente. Ma non tra di noi, lo facciamo in tv, di fronte a milioni di spettatori. A me personalmente è capitato di seguire molte persone che sono arrivate in psicoterapia, inviati da gastroenterologi, per problemi proprio sull'evacuazione. Cioè, quando non si è riuscita a trattarla, chiedo scusa, non si è riuscita a trattarla né con una buona dieta né con una buona terapia farmacologica, c'è l'invio allo psicoterapeuta per aiutare la persona a gestire l'ansia e di conseguenza a controllare meglio il sistema delle feci. E questo è verissimo, perché? Perché spesso ci capono delle persone che arrivano e ci dicono, dottore guardi, io ho praticamente una forte tensione a livello addominale, la prima cosa che ti dicono attualmente sicuramente sarà l'ho intollerante a qualche alimento, perché ovviamente si cerca sempre la causa attraverso gli alimenti, in realtà poi quando vai a vedere, anche dopo un'alimentazione impostata correttamente, oppure analizzando, facendo l'anamnesi sull'alimentazione, magari tutto sommato non ci sono poi tutti questi grossi errori. E allora praticamente da che cosa dipende? Dipende ovviamente da altri fattori, questo lo si può notare anche con una manovra molto molto semplice che io faccio spesso, andando a tamburrellare con il dito sull'addome, quando io sento praticamente con una manovra particolare un segno di timpanismo, cioè facendo proprio un, battendo il dito sul... Esatto, sì, come si fa, come classicamente fa il medico praticamente sui polmoni, lo si fa anche a livello intestinale. E se senti dei vuoti? Se si sente un timpanismo, cioè se senti un, come il risuonare nella pelle tesa di un tamburo, significa che l'intestino è molto molto teso, quindi ci può essere una componente nutrizionale, ma esclusa la componente nutrizionale perché fai un'alimentazione come si deve, la maggior parte delle volte le componenti sono psicosomatiche, diciamo così. Ma una bella colite pure lo fai, eh? Ma certo che lo fai una bella colite, infatti il discorso qual è? È bella, è bella, è bella, eh? Infatti il discorso qual è? Che spesso nel tentativo anche di controllare questo addome teso, addome gonfio, molte persone cominciano a ridurre drasticamente tanti alimenti, perché eh no, quello è il pane che mi fa gonfiare, eh no, quella è la pasta, eh no, quella è la frutta, eh no, quelle sono le verdure. In realtà è solo un problema d'ansia. Esatto, invece è solo un problema d'ansia, quindi va trattato, va trattato magari a partire semplicemente... Dalla camomilla, ma soprattutto arrivando anche... No, perché è importante, no? C'è la gente che non vede i bambini e i bambini, i bambini che sono, i bambini nervosi, i bambini ansiosi, trattengono le feci. Certo. Non le fecero le feci. Non le fecero le feci. Allora, vediamo invece al tema di Lara, il tema di Oltima, di Lara, famosa, bellissima, dal film. Torzi Vago. No, no, non è così. No, così? No, quello è... Ok, poi ci viene. Trove... Na na, 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 na. Questo era sito, bellissimo. Tematela di Lara, al Omar Sharif, la figlia di Cepin, un capo, questo è il capolar, e questi dualità, non è il tempo, nel tempo, lo dice, 48, lughi... Quando capita, ben volentieri, insomma. Skype per far vedere cento modi. Allora, il tema di cui si tratta, andare al mare, come andare? Bichini, abbiamo parlato di bichini. Abbiamo parlato di bichini, abbiamo detto c'è la dispercettura. I bichini che fanno di moto, quello che arriva fino a qua, eh? Sì, il mutandone anni 50. A scellare, come a Fantozzi. Eh sì. Anno 50. Allora, a parte il fatto del discorso delle mode, nelle mode ci sono sempre dei corsi e ricorsi storici, no? Nel senso che comunque tornare, tornare praticamente, la moda ogni tanto ci ripropone dei modelli che sono andati di moda e che hanno fatto scalfore. Sì, sì, la moda di quest'anno prevede o lo slip cut out, cioè con le stringhe laterali e con le fasce. Non è superato. E poi ci sono gli slip a vita alta, a taglio vivo poi, senza la fascia. Senza la fascia, sì. A taglio vivo per non segnare sul giro della coscia. E quindi? Piero! Diciamo che questo fondamentalmente è anche utile esteticamente per coprire un pochettino anche i... Conoscivano? Sì. Queste sono le scarpe, che ti piace? Tu si rimetteresti tu queste qua? Queste si rimetteresti. Ecco! Leopardato. Leopardato. Leopardato, questa è la novità delle novità. Ah, quella va meglio, eh? Sì, questo è un costume molto diffuso quest'anno, questo modello. Il trichini, così. Eh, sembrava, quella si tu? Eh beh, insomma, perché ci si informa perché ovviamente... Ma io non lo sapevo, io era parecchio il trichini. Nel campo della nutrizione si deve spesso stare al palpasso. Quei ti hai comprato tu così? No, però pure arancia l'ho preso. Guarda qua, ti piace quello? Non ti ripeto? Ma sì, nel senso che... Ti vedo molto preso. Molto preso, cioè il discorso che... Ecco, questo è il costume dell'anno. Il costume dell'anno. Cioè praticamente tu sei preso dal contenente, non dall'eventuale contenuto, eh? Ma purtroppo spesso mi capita con l'occhio tecnico di valutare praticamente andando al mare... Sono belli questi bianchi, io ho luscio, io ho i miei figli, ho questi costumi qua, lo conosci? Tu hai un negozio di abitamento? No, 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 no. E questi c'è, me li fatti vedere, li sento? Proviamoli a vedere. Ah. Sono belli, tutti... Allora, va bene. Grazie, grazie, Piero. E tu uno più bello di là, tu te li metti? Ah no, tu no, giusto. Invece per gli uomini, normale, classico, e porto il costume... No, no, porto il pantaloncino. Il pantaloncino. Il pantaloncino perché è molto più comodo rispetto praticamente a quello che è lo slip. Non si vede niente il lato. Ma no, a parte il fatto di vedere, però fondamentalmente lo ritengo... Cioè, io ho portato... Ma voi guardate il mallocco, pure? È certo che guardiamo. Vedi, ma guarda, tu non fai vedere niente, quindi vuoi quelli classici, a slip, insomma. Ah no, io penso che, per come sono fatta io, gradisco più l'uomo col pantaloncino. E non ti vede niente? No, non fa niente. Cioè, poi, lì c'è il gioco, no? Volendo ci sono anche quei pantaloncini attillatissimi che non lasciano... C'è il gioco della seduzione. No, no, c'è il gioco che si immagina che quasi ci possa andare sotto. Eh, c'è il gioco, vedere e non vedere. Ma tu puoi dire, insomma, che è durmato. Il gioco della seduzione è fondamentale. Assolutamente. Tu sei là il gioco della seduzione? Ma io ho il mio classico pantaloncino rosso, insomma, poi il gioco della seduzione lo lascio... Quelle del 2001 che ti compraste? No, no. È prima ancora... È più recente. Ah, più recente. Allora, come ci si arriva a questa prova a bichini, signora? Ci si arriva con grande ansia, fondamentalmente. Quello che abbiamo provato ad accennare nella trasmissione precedente è che c'è un problema importante che è quella della dispercezione corporea. Cioè, un conto è la percezione reale del proprio corpo, un conto è la percezione ideale del proprio corpo. E ci devamo proprio l'altra volta questo studio che è stato fatto dove addirittura il campione, oltre il 50% del campione esaminato, ha detto che sarebbe disposto ad accorciarsi alcuni anni di vita pur di avere un corpo perfetto per indossare un costume al mare. Quindi questo dà un'idea di quanto è potente la paura di non essere perfetti in spiaggia. La paura di essere osservati, di essere guardati e di essere criticati per il proprio corpo. Questo, ripeto, alla base di ciò c'è un problema di percezione del proprio sé e della proprio corpo. Perché se io ho una percezione reale del mio corpo, in realtà nella scelta, ad esempio, del costume, scelgo un costume che è adeguato al mio corpo e di conseguenza anche la visione non è sgradevole. Chi è invece una dispercezione del proprio corpo spesso e volentieri sbaglia la scelta del costume perché immagina il proprio corpo in un modo errato rispetto a come esso è e va ad acquistare un costume che non è assolutamente adatto al suo corpo mettendosi proprio nella condizione dove non vorrebbe stare che è quella, ad esempio, dell'essere ridicolo o criticabile. Quindi la percezione è molto importante. La paura che c'è alla base è praticamente l'accettazione del sé perché è un problema di autostima. se io sono una donna in sovrappeso è inutile che io continuo ad ignorare questa mia condizione. La devo prendere in considerazione, la devo valutare, ne devo valutare ovviamente tutti gli aspetti medici, clinici, ma anche poi gli aspetti psicologici perché è ovvio che se ho un corpo fatto in questo modo, questo implica che posso fare un tipo di vita in un certo modo e posso indossare una certa tipologia di abiti o di scarpe o di costume o di qualunque altra cosa. Questo però non è facile, non è facile perché significa prendere atto dei propri limiti. Il primo che parla nella letteratura psicologica di questa percezione degli elementi positivi e negativi della persona è Carl Rogers, il quale enfatizza proprio l'importanza di una visione sana del sé perché questo è alla base di tutto. Ora, che cosa influisce in questa visione del sé? Perché noi a volte abbiamo una visione distorta di noi stessi? Sicuramente c'è un forte contagio ambientale. È chiaro che se io vivo in un ambiente dove a tavola vengono messe, mi perdoni dottore, ma sempre verdure, sempre cibi con le fibre, sempre alimenti di colore bianco o verdolino. Se io vivo in un contesto di questo genere, è chiaro che sviluppo una ossessione per il peso, per l'alimentazione, per un controllo eccessivo del mio corpo. Se io vivo in un ambiente dove c'è un'alimentazione mediterranea corretta, dove sulla tavola arrivano tutti i tipi di cibi e con tutti i colori, io dico, dal rosso al bianco al verde, dove ci stanno veramente una certa varietà, è ovvio che io ho un rapporto, sviluppo sin da neonato, un rapporto col mio corpo completamente diverso. Alla base si parte dal rapporto col seno. Col seno? Col seno, sì, con l'allattamento, perché praticamente studi che partono da Bolbin, poi studi fatti dalla Crittenden, dalla Anna Freud, insomma tutta la lettura psicologica fino agli anni 60, agli anni 70, ha lavorato, la ricerca psicologica ha lavorato proprio su questo rapporto madre, bambino, sviluppo della relazione e sviluppo dell'identità. È chiaro che se io sono una mamma che allatta e nel momento in cui io vado ad allattare faccio difficoltà a offrire il mio seno al neonato, o ad esempio glielo tolgo di colpo, o non faccio svuotare il seno, oppure mentre il bambino fa la poppata, io mi distraggo, parlo con altre persone, non mi concentro col bambino, non creo un momento di cura prima e dopo l'allattamento. Cioè, questi sono tutti elementi che poi vanno a favorire uno sviluppo della percezione del sé distorta. Perché è come se il bambino sviluppa una sorta di senso di colpa, io non posso mangiare, oppure io mi devo sbrigare a mangiare, oppure io non sono adatto a mamma. Cioè, anche se parliamo di un neonato, in realtà nella psiche del bambino si cominciano a muovere dei pensieri che poi da adulto diventano patologici. Perché quando io poi da adulto vado a lavorare con un paziente che ha un problema sulla percezione corporea, scopro che dietro c'è comunque una forte contaminazione ambientale. Ci può essere sicuramente una componente genetica, cioè a che fare con una persona che ha un disturbo da ansia, che tende ad avere una tendenza alla depressione o ad avere un disturbo dell'umore, ma la contaminazione ambientale è veramente molto forte. Allora, invece vediamo come possiamo andare al mare, magari calando quei chili che abbiamo naturalmente assunto d'inverno, e tentare di avere meno ansia, meno preoccupazione di indossare un costume. Ovviamente questo riguarda soprattutto le donne, ma vengono anche gli uomini. Anche gli adolescenti. Non solo le donne, e giustamente mi riaggancio immediatamente a quello che dice la dottoressa, anche tantissimo gli adolescenti, perché oggi la cultura fisica, ma non inteso come culturismo, ma come cultura del sé, dell'apparire, dell'immagine, in un mondo che fondamentalmente è fatto di apparenza, di, io dico sempre e spesso con un termine di poco maledette subito, e qui mi riaggancio anche a quello studio che diceva che uno preferirebbe accorciare, praticamente, degli anni di vita, piuttosto che apparire in una certa maniera. Oggi è così, oggi è così, e quindi spesso si incappa praticamente in quei, come dire, rimedi da ultimo minuto, in cui si possono fare anche dei danni importanti alla salute. Allora, tu sei contrario a questi due movimenti, ma in realtà volendo si può? Allora, volendo si può nel senso che, allora, volendo si può nel senso che io posso ridurre il peso del mio corpo con diversi stratagemmi, però il problema è che è una forzatura, perché? Perché il corpo non può ridursi di volumetria, di grasso e di muscolo in pochissimo tempo, perché? Perché ovviamente non può evaporare, non può, il grasso, come spesso si sente, non si può sciogliere con un trattamento o con una crema, il grasso va, come dire, ridotto nel corpo, e il corpo si deve creare una condizione nel corpo, per cui si deve, con un meccanismo di riassorbimento e di consumo, il grasso viene consumato dal corpo stesso attraverso praticamente delle reazioni e così via. Quindi la cosa migliore è sempre quella di, come dire, pensarci per tempo, perché, volevo accennare, noi abbiamo due tipologie in nutrizione di persone, quelle che magari è gennaio, subito dopo praticamente le vacanze di Natale, abbiamo mangiato di più, dice, a giugno io mi rimetto in costume, quindi voglio fare un percorso che mi porti fino a giugno in maniera regolare a perdere qualche chilo e così via. Ma c'è quello che praticamente alla metà di maggio ti si presenta e ti dice, io tra un mese voglio stare in costume. Tu hai detto che non va bene fare così, ma si può fare, può fare una forzatura? Allora, si può fare nel senso che comunque si può fare una forzatura un po' rispetto a quello che è la regolarità del percorso. Cioè, come dire, faccio un po' di sacrifici in più, ma senza fare i banditi a livello nutrizionale, perché poi purtroppo, i banditi ci stanno a livello nutrizionale, perché purtroppo quando tu sei nell'esigenza troverai sempre qualcuno che ti soddisfa la bisogna, cioè che praticamente se tu dici voglio scendere in un mese X, troverai sempre qualcuno che ti dice, ci penso io, non c'è problema. E magari te lo fa fare attraverso che cosa? Delle forzature incredibili. Per esempio? Per esempio, delle diete molto molto drastiche, diete per proteiche, diete col sondino, diete con farmaci che poi ti tolgono la fame e quindi praticamente tu non hai fame e non mangi, però il corpo in quel caso ha una riduzione di peso, ti può rimettere il costume, ma la maggior parte delle volte sono degli svuotamenti, per cui vedi magari il tuo peso sceso, ma nello stesso tempo vedi un corpo completamente ipotonico, quindi sei contento, ti metti sulla bilancia, sei contento, ti metti il costume che ti rientra, ma ti vedi tutto flaccido, poi alzi il braccio e dici, eh ma qui, oppure l'addome che praticamente cede e così via. Allora, facendo invece un percorso… Ma che fare volendo, se uno insiste? Allora… Tu gli dici al paziente, no guarda che non va bene così, eh? Sì, però… Però partiamo male con il discorso di base, cioè il discorso è avallare un discorso del genere, cioè dare retta al paziente, vabbè che teoricamente il cliente, il paziente dovrebbe avere sempre ragione, però ovviamente siccome sta scherzando poi con la sua salute, perché? Perché quando faccio una dieta molto drastica, alcuni sistemi ghiandolari e lo stesso cervello si devono adattare a questa sofferenza, è come se io uno te lo metto senza mangiare e gli dico lavora, ovviamente questo uno, due, tre giorni lavora, dopodiché comincia a dare dei segnali, soppressi questi segnali da altre cose, un farmaco che ti toglie la fame, una forte motivazione, non so che cosa. Ci stanno ancora, ci stanno ancora i farmaci che tolgono la fame. Purtroppo, purtroppo ci stanno ancora in giro. E vengono dati. Vengono dati, sotto banco sono vietati, ma vengono dati. Sì, sì. Le anfetamine, le famose anfetamine, sono vietate da un po', però comunque vengono prescritte da, purtroppo è quello che dicevo prima, banditi a livello nutrizionale, che comunque per far ottenere dei risultati, da chi vuole ottenere questi risultati in poco tempo, accetta Oggi ne abbiamo 16? 16 maggio. Uno ne viene oggi, lo ha detto, metà maggio. Dottor, per andare al mare… Allora, diciamo che in un mese io riesco in qualche maniera da nutrisionista che fa fare un certo percorso al corpo, a ridurre qualche chilo sicuramente, ma soprattutto a perdere di più nelle zone dove interessa. Per esempio, la maggior parte delle volte è la pancia per l'uomo, anche per la donna, ma soprattutto la parte inferiore del corpo per la donna, quindi glutei, fianchi, cosce e così via. Quindi si riesce comunque già a lavorare riducendo notevolmente questa struttura. Però, se tu mi vieni, probabilmente, con 10-15 kg sovrappese, non è che in un mese puoi perdere 10-15 kg sovrappese e mettere in costruzione. No, io so che ero 5 kg, la fai? 5 kg già ci si può riuscire facendo lavorare correttamente il metabolismo, perché altrimenti che cosa stavo dicendo? Si mettono sotto stress particolare alcune ghiandole, tra cui la tiroide e le ghiandole surrenali. Quindi appena queste ghiandole poi vanno sotto stress, già si possono creare delle situazioni che sono da preludio a delle patologie, tipo l'ipertiroidismo, la tiroidite autoimmune e così via. Le ghiandole surrenali lavorano producendo molta adrenalina, molto cortisolo, come dire, il corpo si deve dare le frustate per poter andare avanti. E poi dicono, da quando sta facendo la dieta se ne è uscita fuori di testa. Oppure non si può trattare, oppure... Sto nervoso. 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 Sì, sì. Perché? Perché ovviamente è un corpo... Certo, perché è fatta male. Perché la dieta è fatta male. È un corpo che ovviamente non c'è energia. Sì, dì, dì, guarda, mangio tutto, ma mangio molto di meno tutto, tutto ma di meno. Quello sì. E la strada maestra. Certo, quello sì. Perché ovviamente io posso decidere a un certo punto, ok, voglio fare qualche sacrificio in più, concedendomi, riducendo meglio. Cioè, per esempio, invece di una pizza me ne mangio mezza, invece di i miei 100 grammi di pasta me ne mangio 60. Ma no. L'uomo, quando l'uomo? L'uomo dovrebbe stare intorno a una settantina di grammi, 80, se vuole fare una cosa un po' più tirata, se no la porzione dell'uomo è 100 circa. No, il gelato? Un gelato, magari, invece di mangiare con il caldo, tutti i giorni, invece di mangiare il gelato, lo mangio una volta alla settimana, mi prendo l'oglugurtino gelato. Cioè, se voglio fare dei sacrifici... Su gelato che combina? Un gelato? Ma un gelato non combina nulla se nell'arco di una volta alla settimana... Beh, allora comincia a diventare una cosa... Perché comunque il gelato, se andiamo a pensare come è fatto, è fatto di grassi, è fatto di proteine, è fatto di sostanze, ma siamo sempre lì, comunque è fatto di sostanze, se io, tecnicamente, se io voglio ridurre... È buono, è buono, è buono, è buono, lo so che è buono, però se io voglio ridurre il grasso dal mio corpo, devo togliere quelli che sono gli alimenti, o ridurre gli alimenti che sono grassi per cui favorire di più. Che tu sei contrario, dici, non faccio la cena, mi mangio un gelato, non va bene. Non va bene, a meno che, a meno che non mangi questo gelato, perché, spiego subito rapidamente, se io mangio un gelato, il gelato fondamentalmente è fatto di che cosa? Di latte, di zucchero, cioccolato, e quindi sono dei grassi. Allora, di una cena normale, fondamentalmente, io potrei fare un parallelo con gelato uguale secondo che mi tocca a cena, gelato componente grasso, condimento che mi toccherebbe per condire l'insalata e così via, ma manca una parte fondamentale che è la fibra, per cui questi grassi e questi carboidrati vengono assorbiti molto molto rapidamente. Allora, se io per esempio, non dico dopo il gelato mi mangio l'insalata, per carità ci mancherebbe altro, ma se metto dei fiocchi di cereali, magari di fibra, all'interno del gelato, io riesco, o della frutta con la fibra, tipo l'ananas, riesco a modulare. Lì, ovviamente, invece, è tutto un altro discorso, perché andiamo su un prodotto industriale molto calorico, con dei grassi, i famosi olio di palma, eccetera, eccetera, il famoso olio di palma, che ovviamente intasano tantissimo, per cui un magnum ogni tanto, per carità, e un al giorno comincia a dare un po' di problemi. Non si muore, ma ovviamente si dà un po' di fastidio al stomaco, al intestino e soprattutto anche al fegato, non me ne voglia l'algida che produce il magnum, però se facessero un po' più di qualità nei gelati sarebbe meglio. Tutto è buono, io che sono di buona forchetta, mangio tutto. Non lo puoi dire? Non lo posso dire? Non lo puoi dire perché dobbiamo andare in pubblicità, solo per questo, perché tu non posso parlare, ci mancherebbe. Però è il gelato. Eh, lo so, è buono, ma infatti cerchiamo di scegliere un gelato che sia molto più compatibile con quello che ha la possibilità di smaltirlo. Cioè, pubblicità. Forse. Allora, volevo dire una cosa, perché te l'ho detto, ma tu me la spiega. C'è un motivo, insomma, perché non è, insomma, ha anche dei grossi risvolti negativi questo fatto di dimagrire velocissimamente. Eh sì, il discorso è che abbiamo detto che magari ci sono quelli che all'ultimo minuto vogliono fare la dieta per ottenere il risultato rapido e così via. Il problema è che ogni volta che si viene al corpo di fare qualcosa in maniera molto molto rapida, il corpo ovviamente poi tende a reagire con, come si direbbe, una reazione uguale e contraria. Cioè, famosa legge... Del Menger. Del... Del Menger. No, del... No, ma non si legge del Menger. Carlini. Newton, ecco, appunto, mi suggeriscono. La legge di Newton è applicata, bravo. Perfetto, è preparatissimo dalla regia. Che fa la legge di Newton? Una forza applicata, se non sbaglio, a qualcosa tende ad avere una reazione opposta. Perché un corpo immesso in un liquido riceve una spinta e... Probabilmente, probabilmente, sì, adesso non è che... Il principio d'Archimedio. Vedi, no, come, Archimedio ognuno. Allora, il terzo genio non è. Ad ogni azione corrisponde a una reazione uguale e contraria. Uguale e contraria. E quindi... Si dà di verso adesso. Tutto questo. Perfetto, per dire... Per dire fondamentalmente... Il mengerno è il mio povero Newton. No, no. Per dire fondamentalmente... Archimedio, Archimedio. Per dire fondamentalmente che... Quando io vado a forzare troppo le tappe o comunque vado a forzare troppo i meccanismi endocrini metabolici per ottenere dei risultati... Poi che cosa succede? Che nel momento in cui io ho il corpo che, come dire, subito prende le mazzate e obbedisce. Dopodiché praticamente comincia a reagire. Ecco, infatti, le diete che, quelle drastiche, si scendono i primi 3-4 kg, dopodiché il corpo si blocca e pur insistendo ancora di più, cioè facendo la dieta sempre più drastica, il corpo si blocca e anzi addirittura meno mangia e più comincia a recuperare. Anzi addirittura solo, c'è un meccanismo spontaneo. Certo, è normale perché il corpo... Una specie di difesa, eh? Esatto, una specie di difesa. Allora, la maggior parte delle diete drastiche fatte giusto per mettersi il costume all'ultimo minuto, poi tendono... Scusa di civile, si sa che fate di dire. Il last minute. Il last minute. Lo sapete voi l'inglese. Tendono praticamente poi a fare praticamente un recupero abbastanza importante con gli interessi. Voglio dire, se io perdo 4, è facile che recuperi 5 e poi devo fare un lavoro ancora più pesante per riperdere 5, ma magari lo rifaccio di nuovo drastico e recupero 6. Posso fare una domanda? Prego. Un suggerimento per le donne che hanno le smagliature? Eh, un suggerimento... Perché questo è un pallino di molte donne. Un suggerimento per le donne che hanno le smagliature. Intanzitutto pensiamo a che cos'è la smagliatura. Praticamente una rottura in superficie della pelle, come se è uno strap, immaginiamo un tessuto che si strappe, e quindi poi praticamente se la smagliatura è rossa significa che lo strappo fondamentalmente è giovane, quindi la cicatrizzazione si può aiutare. Se la smagliatura invece è bianca significa che ormai è già cicatrizzata e quindi si fa un po' più difficoltà. Questo è lo bianco-rosso, vero? Allora, eh? O bianco-rosso, ma non entriamo. Sì, bianco-rosso è del termo. Non entriamo, non entriamo praticamente. Allora, il discorso qual è? Innanzitutto bisogna... Che rimane da pianistica. Innanzitutto bisogna, perché non c'è il foglio e la penne, quindi fondamentalmente... Poi il gesticolare per me è molto importante perché trasmetto, parlo anche con le mani. Gli italiani molto, gli americani parlano molto con le mani. Sì, però perché comunque fa parte del... Una forma di comunicazione. Esatto, no. Rafforzi la comunicazione nel momento in cui trasmetti. Sempre pronto, sempre preparata. E' invidiata, mi dicono, eh? Io ci tengo molto a che le persone a cui cerco di dare dei concetti capiscono, quindi, sia con le parole, sia con gli gesti, praticamente, di rafforzare. Allora, ehm... E poi questo gesto in avanti significa che le vuoi donare le informazioni. Certo. Le dai gratuitamente. Piene mani, come così per esempio io saluto sempre con la mano molto aperta, quindi non è che come quelli che ti danno la manina così, quando vai a prendere piacere, la manina così. Mano morta. Mano morta ma chiusa proprio. Così va bene. Piuttosto che quando si saluta, saluto sempre con la mano aperta così. Non si può fare questo. Non è il saluto, il saluto così, ciao, cioè, ma a mano aperta, piuttosto che quelle mani... E sono tutti... Mosci. No, mosci, già. Dicevamo che fondamentalmente c'è praticamente la necessità, per quanto riguarda le smagliature, innanzitutto di dare molti minerali. Perché? Perché si rompe la pelle. Perché a un certo punto manca minerale e collagene. I minerali ovviamente li assumiamo da frutta, verdura, dall'alimentazione regolare. E anche il collagene, che è la parte che sta sotto la pelle, quella elastica, diciamo così, si forma fondamentalmente con liquidi e vitamina C. Guarda caso, i liquidi sono dovuti praticamente all'introduzione di acqua, eccetera, eccetera. La vitamina C la troviamo in tanta frutta e verdura. Quindi, qual è il consiglio, soprattutto per le giovani donne e soprattutto per le donne che magari facendo la dieta drastica poi tendono a creare le smagliature, ad avere le smagliature? Non fare mai mancare liquidi, bere, quindi bere tanto, mangiare tanta frutta, tanta verdura e vitamina C. Poi ovviamente ci sono anche dei trattamenti estetici, come delle creme che tendono in qualche maniera a migliorare questa fase della cicatrizzazione, soprattutto se le smagliature sono rosse, e che sono, guarda caso, a base di collagene, di antiossidanti e di altre... E poi un'altra cosa volevo chiedere, siccome è un problema che io mi ritrovo poi quando parlo con le persone che hanno un problema a mettere il costume, o comunque un problema con il corpo, è la cellulite che fa i tonfi, cioè la cellulite con i bozzi. La cellulite... Cioè la pelle, ok, a buccia d'arancia, più quando fa... E anche lì è un problema di circolazione, perché che cosa succede? Fino a quando io ho un po' di grasso, magari anche a livello gluteo, questo grasso che praticamente... Immaginiamo le cellule del grasso come tanti palloncini, quando praticamente questi palloncini, come dire, hanno poco spazio e si gonfiano, cominciano a diventare quasi dei parallelepipedi, cioè si immaginiamo dei palloncini compressi uno a fianco all'altro. Nel momento in cui comincio a dimagrire, dimagrisco anche abbastanza velocemente, questi palloncini riprendono la forma e i liquidi tendono in qualche maniera a... Beh, purtroppo... Sì, no, ci stanno delle tecniche per scoppiare, praticamente... Ci sono donne che si sottopongono a delle cose atroci, quindi dalla liposuzione in cui li vado ad aspirare a una specie di elettrostimolazione in cui attraverso una corrente elettrica si vanno praticamente a sciogliere questi grassi e anche, si chiama attualmente, cavitazione, che attraverso degli ultrasoni si vanno a creare praticamente delle condizioni per cui le cellule piene di grasso scoppiano. Però il discorso è che, dovrà ripetere, dei fatti, dei meccanismi estetici... E dicevo, l'ultima cosa sulla cellulite, perché è una cosa veramente molto molto importante, i liquidi che sono fondamentali per poter riuscire in qualche maniera a migliorare la circolazione, soprattutto nel momento in cui si ha questa riduzione e questa presenza, e soprattutto aiutare la circolazione anche con dei rimedi naturali, per esempio come potrebbero essere dei drenanti naturali, tipo il gambo di ananas, tipo delle sostanze, il tarassaco, il cardomariano, che hanno questa capacità drenante che vede a scaricare un pochettino meglio. E ci siamo sulla cellulite. E tu che cosa dici invece, quando non abbia potuto seguire, oppure non ha voluto, per convincere ad andare a mare, per avere questo rapporto, buon rapporto col corpo? Io cerco di lavorare sull'autostima, cioè cerco di rinforzare la percezione positiva del sé, dicendo che in realtà ciascuno di noi ha delle belle cose da mostrare, cioè chi ha dei begli occhi, chi ha delle belle mani, chi ha delle belle caviglie, in realtà ciascuno di noi ha un punto di forza nel proprio corpo. Si vuole che ha belle caviglie, no? Eh, no, vabbè, una donna con una bella gamba, con una bella caviglia, per esempio, cioè ciascuno di noi ha qualche cosa da valorizzare. E quindi io dico che se non c'è stata la costanza di una dieta, non c'è stata la costanza del camminare, della palestra, eccetera, eccetera, focalizzarsi sull'aspetto positivo, valorizzarlo e mostrare principalmente, evidenziare principalmente quello, insomma. Ma li convinci così? Ma sì, perché poi funziona, perché ciascuno di noi ha un punto di forza, cioè non è... ce l'abbiamo tutti, non è tutto negativo, ciascuno di noi ce l'ha. L'importante è individuarlo e focalizzarsi su questo. E questo aiuta anche a un po' ad abbassare la depressione, perché io focalizzandomi sulle cose positive mi allontano dai pensieri negativi, quindi abbasso il senso negativo del sé, della vita, dell'esistenza, nella relazione con gli altri e quindi rafforzo l'autostima. Molto bene, quindi si discorso sull'autostima al solito. Volevo proporre 30 secondi, un giochino che è molto molto importante però. Se a qualsiasi persona, soprattutto a una donna, si chiede quali sono le misure canoniche della bellezza, in realtà tutti quanti tirano 90, 60, 90. Ah, questa è una cosa. Ok? Se andiamo a vedere praticamente, e invito le donne a misurarsi 90, 60, 90, abbiamo un seno abbastanza presente, un vitino stretto e dei fianchi abbastanza presenti, quindi è tipo clessidra. Oggi ovviamente il modello clessidra non va, perché molte ragazze sono quasi androgini, praticamente i fianchi sono alte, asciutte, ventepiatto, quindi c'è anche sempre questa specie di contrapposizione tra quelli che sono alcuni modelli classici, canonici per quanto riguarda la bellezza che dovrei rispettare come la famosa taglia 40 da mettere e poi magari vai a mettere una taglia 40 che è una 36, perché ovviamente anche questo nell'industria dell'abbigliamento purtroppo ci sono anche questi mezzucci qua, le taglie sono nettamente ridotte, rispetto a quello che praticamente è poi la struttura corporea. Quindi voglio dire, come diceva la dottoressa, valorizzare la bellezza propria. Se voi vedete delle modelle, come stanno ultimamente venendo fuori, anche un po' rotonde, sono di una bellezza disarmante, danno un'idea di tranquillità. E io vorrei agganciarmi proprio a questo. Danno un'idea di tranquillità, di piacevolezza. Che il maschio ama in realtà le linee morbide, le curve, i seni morbidi. Vedere sfilare le modelle nelle sfilate alte 2 metri, 1,80 metri, ma costa i gambe, perché dentro non c'è nulla, perché è solo osso. Non c'è la sostanza, ma la sostanza è cabanata, ma la sostanza. Ma non è la sostanza, capito, non è la sostanza. È il discorso di praticamente dare l'idea di una persona che stia in salute. Cioè se io sono in salute, in pace con me stesso, mi piaccio, non è un problema di... Stare bene col suo corpo, è così. Esatto, anche a livello nutrizionale è la cosa più giusta e più bella che si possa avere. E comunque nell'immaginario maschile la donna è morbida. È morbida, perché non è assuta, va bene? Grazie a Dottor Campanaro, il nostro nutrizionista, grazie a Italia Calabresa, la nostra psicoterapia, quindi tutti al mare, vabbè, possiamo andare, insomma. Niente diete velocissime. Ma senza, ma così, spontaneamente, raccogliendo la bellezza di ognuno. In rapporto positivo col proprio corpo. Grazie, noi ci sentiamo tra poco, un altro ospite, più tardi. Buona giornata. Allora, ecco un altro volto noto dalle origini ai giorni nostri, no, tradizioni popolari. Le donne, vogliamo continuare il discorso sulle donne, come le donne al mare, invece tu tratti le donne, insomma, anche nel latte, nella fotografia. Sì, l'immagine delle nostre donne abruzzesi, che sicuramente... Non l'abbiamo presentata, è la professoressa Alessandra Gasparroni. Forse mi conoscono. Ho capito, mi fanno la fanata, fammi ridire, no? Ma non faccio la fanata. Per il colto è l'inglita, dobbiamo ridirlo sempre. Certo. Prego, non hai portato manco un appunto. No, ma non mi hai presentato bene, però. Che devo dire? Che cosa faccio, che tu dici sempre una cosa difficile. L'antropologa fa. Va bene. Va bene, non ci piacevelo molto. Cioè, quella è quella più terra-terra, quella che ti rende di più tradizioni. Svidiosa di cultura tradizionale. E te va. Ecco, va bene. E no, sentivo che parlavate di donne, già avevamo accennato. Donne al mare, soprattutto. Donne al mare. Ma io vi proporrei così uno sguardo, sicuramente molti degli ascoltatori, se ci sono. Come se ci sono? Bisogna essere scaramantici, poi magari ti arrivano quei messaggi fulminanti. No, oggi non arriva, oggi non arriva. Comunque, no, volevo proporre così un aspetto che definirei, al quale darei il titolo, volti di donne. Perché, in fondo, noi abbiamo le nostre donne, quelle che ci hanno anche preceduto, qualcuna anche molto anziana, che vediamo ancora, soprattutto nei paesi. Perché comunque, cioè, il fatto di vivere nella città ha fatto sì che anche la donna somaticamente subisse un'evoluzione, per forse la non esposizione al sole, la diversa tipologia di lavoro, lo stare in casa. Quindi le donne di una volta avevano dei tratti somatici diversi, segnati anche dagli agenti atmosferici. Le donne di montagna, o le vecchie contadine, o le mogli dei pescatori di una volta. Io adesso suggerisco qualche immagine per… La donna di carbone, perché questo era il loro lavoro, cioè le donne per aiutare l'economia della famiglia, che era un'economia anche di sussistenza nei paesi, diciamo… Pede Montani, aiutavano i mariti che facevano le cotte di carbone nei boschi, a volte anche abusivamente, perché più si poteva produrre carbone, che poi veniva portato con i canestri. Così come le donne utilizzavano il canestro da portare in testa con il cercine, quindi lo sparone annodato, che dava questo senso di equilibrio, portavano queste ceste di carbone ancora caldo, nelle zone di isola Montori, eccetera, che poi serviva alle famiglie per riscardarsi. C'è tutta la descrizione di come venivano fatte queste cotte di carbone che erano… Che periodo dove erano, all'incirca? Ma siamo anche nel primo dopoguerra. Primo dopoguerra. Sì, ma anche dopo, perché naturalmente questa è stata un'attività che lei ha potuto raccontare perché le è stata raccontata. Quindi queste donne che avevano male in testa, perché la testa era calda, in quanto portando queste ceste e camminando per i sentieri, a volte appunto, come dicevo, in modo nascosto, non nelle strade maestre, perché più carbone vendevano e più serviva per l'attività economica della famiglia. Quindi sono degli aspetti, queste donne non possono essere state flessuose, morbide, eccetera, ma erano donne che avevano anche un impianto muscolare forte, erano donne che non curavano la propria bellezza, perché la loro bellezza, questo non è un discorso metaforico, ma era uno stile di vita, la loro bellezza era la famiglia, era poter aiutare i bambini a crescere, a dar loro da mangiare, quindi si curavano poco della loro bellezza, così come le mogli dei pescatori. E noi abbiamo una zona già nel Terramano che ti permette di vedere volti di donne completamente diversi, perché dalla montagna passiamo attraverso la campagna, e parleremo anche delle contadine, delle ortolane, arriviamo al mare. E le mogli dei pescatori, come dicevamo prima con l'ospite che mi ha preceduto, il dottor Campanaro, erano proprio il fulcro della famiglia, perché l'uomo andava a pescare, ma era la donna che raccoglieva il pesce e lo andava a vendere. La sua capacità di vendere il pesce era naturalmente il sistema per poter, a volte anche far apparire dei pesci meno belli, come pesci eccezionali, abbindolare o comunque imbonire il cliente. Oggi all'ingresso del porto di Giulianova c'è ancora qualcuno che vende il pesce, mogli o parenti di pescatori. Certo, come ho detto anche in altre situazioni, sia per i piatti tradizionali, la tipologia di vendita è mutata. Non è più la donna che è stata sublimata da Celommi, le donne che aspettavano i mariti sulla spiaggia, raccoglievano questi pesci con questa luce che Celommi ha saputo dare a tutte le sue pitture, questa luce crepuscolare dorata, molto bucolica se vuoi. Infatti lui viene, diciamo, tacciato dai puristi, tra virgolette, come molto oleografico. Noi studiosi però di costume consideriamo le pitture oleografiche, quelle che si definiscono come verismo ottocentesco, oppure che dipendono dalla scuola di Posillipo, Napoletana, come però documenti importanti, perché tutto ci segnala come erano i costumi tradizionali, che tipologie di abitudini avevano le donne, parlo di Celommi come di Michetti, e per noi sono stati importanti questi pittori, e lo sono, per lo studio dell'oreficeria tradizionale, delle feste particolari che loro hanno fermato sulla tela. Poi c'è da dire che Michetti è stato anche un grandissimo fotografo, e quindi lì, ecco che arriviamo nel filone proprio della modernità. Lui ferma nell'obiettivo, quindi sulla lastra fotografica, delle immagini di come era realmente il mondo dell'ottocentesco fino alla fine dell'altro secolo, fermando sulla tela la bellezza delle donne, perché lui aveva una moglie che era una contadina annunziata, però era bellissima, e annunziata lui la fotografa e la dipinge. Ecco, in quel caso abbiamo una tipologia di donna molto bella, una donna che rappresenta la femminilità con la sua morbidezza di forma, eccetera, però dai lineamenti così delicati da essere immortalata più volte. Michetti però fotografa anche la disperazione delle donne, perché le donne non sono così, appunto, oleograficamente dipinte, solo fotografate come donne del tempo che fu, il dolore delle donne lungo le processioni. C'è una fotografia bellissima che poi lui riporta sulla tela di una madre disperata che piange davanti a una culla, poi lui lo riporta sul quadro che chiamerà la culla vuota. Quindi la mancanza anche di un figlio, che sappiamo una volta essere una realtà, un bambino appena nato, piccolissimo, una realtà molto comune nella nostra zona, perché le malattie e le cure che non vi erano portavano ad avere molti figli, ma anche molte morti. Nello stesso tempo Michetti ci parla di tanti aspetti dell'Abruzzo, perché? Perché lui ha avuto l'opportunità di avere un occhio attento anche attraverso la guida di Antonio De Nino, che è stato uno dei primissimi raccoglitori di tradizioni popolari d'Abruzzo. E tu sai che nel cenacolo di Francavilla al mare, appunto nella dimora di Michetti, si riunivano quest'insieme di intelligenzie che erano Michetti, D'Annunzio, De Nino, Barbella, Tosti, cioè ebbero questo... Ma all'emiglio, c'era musica, arte, le carature, tutto. Sì, c'era musica, appunto, e da lì tutte queste diramazioni. Ecco perché i volti di donne sono anche i volti raccontati magari da De Nino, che raccontava delle situazioni particolari in alcuni paesi, processioni o costumi tradizionali. D'Annunzio andava personalmente a visitare questi paesi e poi traeva delle intuizioni. La figlia di Iorio non nasce per caso, è proprio la storia di una vita di montagna, una vita abusata, perché dobbiamo anche dire che questi volti di donne hanno subito abusi tante volte e soprattutto, perché negarlo ora, grazie a Dio, superato, ma anche abusi all'interno della famiglia, perché la possibilità di avere scambi, incontri, eccetera, era talmente limitata. E poi c'era quest'idea del patriarca, del padre, non in tutti i casi, per carità, ma in molte realtà l'incesto era, diciamo, diffuso. Quindi certamente le donne che subivano queste situazioni le accettavano loro malgrado, non con gioia, ecco perché parlo di volti di donne abusate. Ma l'Abruzzo è stato anche fotografato non solo da fotografi locali, voglio dire anche che moltissimi archivi fotografici che possono essere archivi grandi, ma anche piccoli album di famiglia sui quali noi lavoriamo, perché spesso ci sono delle curiosità, beh, lì abbiamo proprio dei quadri della storia dei nostri progenitori, dei nostri bisnonni, situazioni, insomma, che vanno, ecco, dai 920, 910 in avanti, che ci fanno vedere anche nelle famiglie più abbienti la, diciamo, mescolanza festosa per quanto riguarda dei pranzi in campagna, per quanto riguarda delle attività, appunto, che riguardano matrimoni, eccetera, dove le donne vengono fotografate e fotografate in tantissimi ambiti. Ho fatto una ricerca sugli usi nuziali e ho avuto modo di vedere sia l'archivio della Biblioteca Provinciale di Teramo, ma poi anche in archivi privati, delle foto di matrimoni che ti danno il segnale anche del volto della donna, perché la donna magari seguiva quando poteva, quando aveva l'opportunità, la moda del tempo, senza lasciare però la tradizione con la quale era cresciuta. Ti faccio un esempio. Ad esempio, nella zona di Pietracamela, il picco paese di montagna, dove naturalmente, abbiamo detto fino a poco tempo fa, i volti e anche la forza delle donne si traduceva in una bellezza particolare, non certo secondo i canoni della bellezza classica, le donne si sposavano e avevano magari l'abito dell'epoca, degli anni venti, degli anni trenta, che stonavano con il loro fisico, però avevano potuto acquistare, magari in città, scendendo a Montorri o a Teramo, il vestito del matrimonio, non tralasciando però la collana di corallo, che non c'entrava nulla con l'abito tradizionale, con l'abito da sposa. Però era il segnale che la suocera aveva donato questa collana alla nuora, che era un dono nuziale, con l'abito da sposa. Io ho una serie di fotografie, poi anni fa... io ho fatto insieme agli studenti dell'Università della Terza Età di Giulianova, proprio dal titolo C'eravamo tanto amati, rituali e simboli dal corteggiamento al matrimonio, ne parleremo, come no? Come no? Sicuramente. Questo vestito bianco, la sposa con la collana di corallo. Questo vestito bianco crema, vestito charleston, quindi non c'entrava nulla, però la collana di corallo. Ma anche il nostro carissimo pittore locale, Giovanni Melarangelo, fotografa un corteo nuziale, con i visi, appunto, seguendo la sua tecnica, appena tratteggiati, dove c'è la sposa e lo sposo, e dietro tutte le persone, e questa sposa però ha l'abito bianco con questa grossa macchia di colore rosso. Sì, perché era una caratterizzazione. E quindi i fotografi... Fino a quando questo? Ma scompasco. Sicuramente, fino agli anni 50, ma diciamo solo in alcune piccole località, perché poi nessuno più... Anche se parleremo magari una volta ampiamente del corallo, la tradizione di regalare corallo è, diciamo, continuata fino alla... Ma forse fino agli anni 60, 70 ancora, perché anche a Giulia Nova c'erano negozi, sì, noi abbiamo una tradizione, come no. Ma lasciamocelo per un'altra occasione, perché ci sarebbe molto da dire. Sì, un 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 sì. Sì. E dicevo, questi volti di donne che a volte sicuramente non erano poi... erano donne furbe, erano donne che naturalmente, come tutte le donne, avevano anche i loro segreti, avevano le loro richieste, avevano i loro anche sistemi di protezione, quindi magari c'era la donna... Sì, ma come erano queste donne? Magroline o quelle formose? Non erano magre, non erano magre, erano sempre donne formose. Anche dipinte così. Sì, erano anche dipinte così, tranne le giovanette, per esempio c'è... ci sono due quadri che trattano lo stesso tema, quindi da lì possiamo trarre sia di Celommi che di Michetti, uno è Sposalizio in Abruzzo e l'altro è Sposalizio Abruzzese. In tutti e due, in quello di Michetti, c'è una scena di una casa colonica che è anche come queste nostre di Abruzzo Terramano, però diciamo già più verso la zona di Pescara, perché è questa casa colonica nella quale c'è questo ballatoio e poi c'è la scala che scende, ma lui ritrae, diciamo, l'immagine della scalinata in primo piano, sul ballatoio ci sono gli invitati e scende la sposa, è una sposa triste che lascia la casa ed è triste perché si ricollega al fatto appunto dell'abbandono della casa paterna per arrivare poi nella casa della suocera, perché questo era poi il discorso e quindi legata ai canti di partenza, eccetera. e gli abiti sono tradizionali, c'è l'immagine del carriaggio, quindi c'è questo carro con i cavalli, con tutti i sonagli, perché tu sai, come ho detto altre volte, che tutto quello che suona e che fa rumore allontana le negatività. e i sonagli si ricollegano agli invitati che sul ballatoio, in un angolo, sparano proprio perché non c'erano i fuochi d'artificio, no? al contrario nel quadro di Celommi, che è stupendo, è l'arrivo invece a casa della suocera del corteo nuziale, dove la sposa ha un costume ricchissimo, quindi siamo nell'Abruzzo Teramano, coralli e oro, e ci sono naturalmente persone che fanno festa, bambini, è una casa di contadini, bambini scalzi, la suocera che arriva sulle scale e scende e offre un vassoio con lo complimente, come si dice da noi, no? Con fare un mio complimente. Lì al contrario, mentre nel quadro di Michetti la sposa è triste perché lascia la casa paterna, in questo caso noi vediamo che nel gruppo familiare che accompagna la sposa c'è un uomo che con un braccio tiene il cappello e con l'altro si chiude gli occhi ed è il padre della sposa perché capisce che c'è questo distacco. Ma tutto questo ci serve per rappresentare quelle che erano le abitudini di una volta. Le donne in campagna erano, diciamo, il punto anche esse la regina della casa perché poi decideva l'uomo ma era la donna che disponeva tutto. Abbiamo detto che le donne erano la spina dorsale perché senza il loro lavoro in trincea gli uomini non potevano essere così attivi poi nelle campagne tant'è che le donne andavano anche a vendere fuori. Andavano nei piccoli mercati ed erano appunto quando lavoravano l'orto vendevano le primizie dell'orto. Noi abbiamo ancora per esempio a Teramo nel mercato coperto che ormai è diciamo un fantasma perché non vende più nemmeno la mia amica Memena dalla quale io andavo a comprare la verdura e al piano di sotto ci sono cosiddetti i contadini vai lì dai contadini devi andare presto alla mattina perché ancora c'è qualcuno che vende come il mercato delle erbe del giovedì ma come da tradizione antichissima adesso non so se è stato ripristinato ma una mia collega dell'Aquila Rita Salvatore scrisse anni fa un libro che si intitolava La fila e descriveva in modo preciso la posizione delle ortolane in piazza Duomo che avevano proprio una posizione precisa un po' i posti assegnati e c'era da un punto di vista familiare quando una non poteva subentrava l'altra ma non poteva cambiare posto tutto questo è stato anche fermato dagli scatti fotografici come dicevo prima non solo di fotografi locali ma a settembre dell'anno scorso al museo delle genti d'Abruzzo c'è stato un convegno per l'apertura di una mostra fotografica di due fotografi importantissimi Rolf e Scheuermeyer soprattutto che Svizzeri Scheuermeyer addirittura ha naturalmente non c'è più c'era la figlia ospite perché ha un archivio in Svizzera ricchissimo ha girato l'Italia ha girato l'Abruzzo e ha fornito a noi abruzzesi addirittura delle immagini con le quali noi abbiamo potuto lavorare le foto dei cardatori per esempio di Pietracamela perché noi siamo abituati a parlare della transumanza ma dobbiamo sapere che c'era anche una grandissima attività che era quella dei cardatori i cardatori che andavano a cardare la lana partendo e facendo una transumanza non di animali ma di lavoro quindi le donne credo che siano state quelle e lo sono io non sono femminista perché credo che ognuno abbia il suo ruolo in questa vita in questa società però sicuramente siccome è il sorriso della donna l'espressione della donna la maternità di una donna il dolore di una donna arriva in maniera molto diretta credo che tutta la nostra realtà agropastorale sociale economica sia stata scandita da volti di donne ma devo chiedersi per caso tu hai visto qualche quadro di lupo donne in attesa che è molto molto bella insomma noi abbiamo tralasciato i pittori odierni però ci sono moltissimi pittori del diciamo di oggi che hanno avuto che hanno che perché sono elementi la posizione di una donna in attesa è un universo brava per quello della donna che quelli portano ma se la donna poi non commerciavano o anche oggi sono in cucina rappresenta sì sì non solo la bellezza ma un ruolo fondamentale va bene signora benissimo contenta hai fatto una bella cosa molto culturale grazie con le tradizioni popolari abbiamo visto vedi quante sorprese mi porteremo anche gli appunti no perché lui che copiazza e prende appunti così di fare le domande però sto contento che hai visto i domicuali di lupo perché insomma anche là sono molto bene come no bene grazie a voi antropologa vi ringraziamo ci sentiamo a tutti buon fine settimana oggi è così così ma domani c'è il sole speriamo potresti fare una camminata alla marina alla marina grazie buon fine settimana a voi buongiorno buon fine settimana Grazie a tutti.